Ciao a tutti, sono Luciano Serra, 52 anni, sposato, ho una figlia di 15 anni, è da due anni che seguo il Movimento 5 Stelle, però ho deciso di iscrivermi nel Movimento solo il giorno dopo che Beppe Grillo con la zona mitura ha parlato di Piazza Castello e da lì ha presentato i candidati per le politiche e da lì mi ha fatto scattare questa molla di partecipazione all'interno del Movimento 5 Stelle. Quindi ho iniziato a dare il mio supporto al gruppo di San Mauro, mi hanno fatto dei banchetti, sono scultatore di lista e da lì faccio rappresentante di arredamento e da lì ho partito da tutti i miei clienti a spiegare il programma del Movimento 5 Stelle, a spiegare la filosofia, mi sono piaciute molto anche le parole poi di Casaleggio che diceva appunto che l'entreprenore del Movimento 5 Stelle sono onestà, trasparenza e competenza e da lì ho fatto tutto il possibile perché il Movimento riuscisse nelle politiche e così è stato. Adesso si presenta questa occasione di entrare anche nella regione, visto che ho studiato da progettista elettronico industriale quello che mi si avvicina come settore e le energie rinnovabili e da lì ho studiato un attimino anche il programma nostro del Movimento 5 Stelle e anche per risolvere le varie economie piemontese penso che la cosa principale sarebbe di promuovere queste società che si chiamano la ESCO in pratica, che è una società che si fa carico di tutto quello che riguarda gli impianti e anche il finanziamento delle opere che riguardano l'ecologia, quindi pannelli solari, fotovoltaico e via dicendo. Si fa carico anche finanziariamente, quindi darebbe lavoro sia all'elettricista, all'idraulico oppure a fare anche i cappotti per le case potrebbe essere una soluzione veramente tangibile e immediata per risolvere anche l'economia piemontese quindi questo è quello che mi dedicherò a fare e grazie a tutti e viva il Movimento 5 Stelle.